Ave. Ecco ancora un luogo, è una tomba etrusca, dove si può, come tantissimi posti, più allegri o meno, riflettere, trovare spunti di riflessione, ma anche di studio, ovviamente, oltre che di studio. Il nostro itinerario su questo piccolo, immenso mondo ci conduce anche non esattamente fuori di noi stessi, ma quando proprio pur pensando di stare al di fuori o comunque esternamente, in realtà stiamo guardando proiezioni di noi che riflettiamo, che elaboriamo, non solo in base a delle mere percezioni, ma soprattutto a delle nostre concezioni. Noi elaboriamo dei concetti sia dopo che prima di vedere, di vivere. La nostra vita, la nostra esistenza è talmente unica, importante, quanto ogni cosmo, ogni universo, il multiverso e ancora di più. Eppure ci ritroviamo anche nelle piccole grandi cose, nei piccoli grandi luoghi, in ogni caso nelle piccole grandi persone che le nostre identità, che meritano effettivamente quindi di essere conosciute e riconosciute e ricordate e imposte, sì, imposte perché la nostra vita è nostra e di ognuno di noi è di un tutto al tempo stesso. Giusto un messaggio, un saluto. Ave.